Ed eccoci qua, ho provato a fare due lanci, 13 venerdì di gennaio, sento la botta, grande la gallinella è arrivata, grande la gallinella è arrivata, cosa devo dire? E' una meraviglia, eccola qua, guarda che meraviglia, guarda che meraviglia, cos'è sto pesce? Guarda che roba, è libero, è libero sì, prendo lo straccio, è libero, meraviglia.